Una discussione che continua ad animare non solo la politica, ma anche la società civile e l'associazionismo, il mondo sindacale e il movimentismo civico. Ma è soprattutto all'interno del Partito Democratico Nazionale di riflesso locale che il dibattito attorno al referendum del 17 aprile inizia a diventare una resa dei conti. Il primo partito del Paese al referendum di aprile invita ad andare al mare, credo sia un errore grave. Ad intervenire sul tema è Roberto Speranza, ex capogruppo del PD e attuale leader della minoranza DEM, che si scaglia contro l'assenzionismo rivolgendosi al presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Siamo ancora in tempo, ha dichiarato. A rispondergli Ernesto Carbone, deputato e componente della segreteria PD, che su Twitter rievoca la campagna per il non voto dei DS al referendum di 13 anni fa per l'abrogazione dell'articolo 18, segno di una battaglia referendaria che inizia a scaldarsi. A non rafforzare però la posizione di Speranza sono le parole dell'ex segretario PD, Pierluigi Bersani. Al referendum del 17 aprile ha dichiarato vado a votare, ma per ora non dico se voto sì o no. Sulla polemica interviene anche il presidente del Consiglio regionale lucano, Piero Lacorazza. La scelta dei DS che nel 2003 invitarono a non votare, non si può dire futuro e può appellarsi al passato, ha dichiarato. E sempre sulla questione referendum torna a farsi sentire la CGL Basilicata, che attraverso una nota replica le affermazioni del comitato Notrib in merito alla recente sentenza del Tar, che ha sbloccato due nuovi pozzi dell'Eni in territorio di Calvello. L'articolo apparso sui quotidiani, si legge nella nota della CGL, a firma del coordinamento Notrib, che richiama dichiarazioni del segretario CGL Basilicata, ci consente di ribadire un concetto che è alla base della linea programmatica del sindacato, sul versante relativo al referendum del 17 aprile. Noi riteniamo dover supportare le ragioni del sì, perché con il medesimo tenore valoriale mostrato all'epoca del referendum sull'acqua pubblica e sul nucleare, crediamo che su un bene pubblico non si possa derogare a compiti di controllo.